La prima nave arriverà quasi sicuramente al Molo Manfredi e quindi il nuovo polo cruceristico. Si inaugura una stagione importantissima per Salerno perché sarà parte di un'economia che cresce sempre di più nel porto e però mancava questa perla importantissima che è il polo cruceristico. Le navi arriveranno nella città, perché prima arrivavano nella città, però in maniera delocalizzata, tra un container e le merci varie, autovetture in esportazione, altre merci in importazione. Oggi finalmente abbiamo il polo cruceristico, il nuovo Molo Manfredi allungato di 300 metri, con il progetto di allungarlo fino a sotto al molo di sopraflutto e con la stazione marittima quasi addirittura d'arrivo. Quindi abbiamo un nuovo settore dedicato a questo, per cui con grandi potenzialità di crescita, veniamo da Miami dove abbiamo avuto possibilità di riscontrare ancora una volta l'interesse per questa città, per Salerno, per la provincia e ripeto, questo riscontro ci dà la possibilità di immaginare a breve uno sviluppo importantissimo, centinaia di migliaia di cruceristi che stando arrivando nel centro della città avranno anche possibilità dopo il loro tour consueto di visitare per qualche ora la città e approfittare delle tante note positive che ha Salerno.